Siamo qui, il video sui paradossi. L'ho fatto in inglese così più gente lo può vedere. I paradossi, per chi non l'ha capito, allora, la prima frase è questa frase, il primo paradossi è questa frase è falsa. Se giudichiamo vera questa frase, la giudichiamo vera, la frase dicendo questa frase è falsa e noi ne mentiamo e quindi sarebbe falsa. La stessa cosa è quando si rivela la frase falsa, vera e propria. In questo caso noi avevamo detto una verità e quindi questa frase è vera e si crea questo gioco. Il paradosso numero uno è, può un oggetto inarrestabile, cosa succede se un oggetto inarrestabile tocca un oggetto inammovibile? Un oggetto inarrestabile è un oggetto che nessuno lo può fermare, si muove in unica direzione alla stessa velocità. Oggetto inammovibile è un oggetto che non si muove, la sua velocità è sempre zero. Quindi quando si toccano, cosa succede? Si muove l'oggetto inammovibile, si arresta l'oggetto inarrestabile, l'oggetto inarrestabile rimbalza? Nessuno lo sa. Io sono un bucciardo. In questo caso abbiamo la stessa cosa della frase numero uno, perché dicendo io sono un bucciardo dico la verità e quindi significa che non sono un bucciardo. Perciò mento e quindi significa che io sono un bucciardo. Infine, cosa succede? Può Dio creare un oggetto, qualcosa più potente di lui? Cioè Dio è onnipotente, quindi può creare qualcosa più potente di se stesso? Se diciamo che Dio è onnipotente, quindi la potenza massima, non può creare qualcosa più potente di se stesso, ma siccome è onnipotente, la deve creare, se no c'è qualcosa che non può fare. Questi sono i paradossi, ci vediamo al prossimo video.